In questo tutorial parleremo di tracce musicali. La traccia musicale è la cosa che appellisce di più il video. Molte volte il video è creato in base alla nostra colonna sonora. Decidiamo prima la traccia musicale e poi ci costruiamo ad hoc il video appropriato. Bene, ho già caricato una serie di slide per guadagnare tempo e iniziamo. Questa fa sempre parte della serie primi passi. Trasciniamo nell'apposito binario la nostra traccia musicale. Aspettiamo che la clessidra ci dice che è pronto. Ecco qua, in tutta la sua lunghezza. L'arrivo, cioè la partenza e l'arrivo. Torniamo qui, cominciamo a capire cosa abbiamo fatto. Se clicchiamo di destro abbiamo una serie di comandi. Di solito io vado in edit e mi vado a guardare cosa ho fatto, cosa voglio fare. Vi dico subito che proprio per rimanere in tema ai primi passi faremo solamente alcune modifiche. In questa sezione modificheremo l'entrata della musica. Quindi io stabilisco 6 secondi in entrata. Qui è l'uscita. Stabilisco 6 secondi in uscita. Che cosa ho fatto? Ho fatto entrare dolcemente la musica e l'ho fatto uscire dolcemente. Sempre da questa opzione io posso decidere di duplicare, di rimuovere e di stoppare. Vi faccio un esempio. Questa è la fine. Io volevo farla terminare qui. Cosa faccio? Mi poggio proprio nel punto specifico di destro e clicco stop ed è arrivata qui. Ok? Questo è quello che è importante sapere per chi inizia come introdurre una traccia musicale. Vediamo adesso due tracce musicali. Posizioniamoci dove finisce questa e ne inseriamo un'altra. Mettiamo questa volta Andrea Bocelli. Si distingue l'altra traccia da un colore diverso. Anche qui è possibile fare lo stesso movimento. Possiamo anche entrare da questo pulsante e vedere che abbiamo due tracce musicali. Da qui possiamo toglierne una, spostarle prima uno, prima un altro e tutto quanto. Qua è il volume master, cioè adesso è selezionata la traccia Andrea Bocelli. Se io seleziono zero, cosa succede? Che tutta la traccia di Andrea Bocelli non andrà a ascendirsi. Invece gli strumenti che riguardano la traccia musicale li vedremo un'altra volta. Come vedremo un'altra volta, quest'altra schermata ci porta altri strumenti molto nuovi perché solo mi pare che la 4 non aveva queste opportunità. Ve li spiegherò quando tratteremo la seconda lezione di tracce musicali avanzate. Ora è importante soffermarci su questo aspetto del doppio inserimento. Abbiamo inserito due tracce e cosa succede? Che se vado ad ascoltare questa, all'inizio che mi entra quest'altro, c'è un netto trasporto. Finisce uno, attacca subito l'altro. Quindi io voglio miscelare queste due tracce. Cosa faccio? Mi rego su Thumbline, mi posiziono sulla traccia che mi interessa modificare, tengo premuto dalla tastiera il tasto CTRL per tutto il tempo e noterete dei nudini. Vuol dire che è pronto. Prendo il mio binario, dal mio binario prendo la mia traccia e con un trasporto, un drag and drop, lo trasporto fino al punto che voglio miscelare. Adesso è miscelato, però cosa faccio? Lo voglio fare entrare gradatamente, quindi prendo questo qua e me lo porto per tutto il tempo che lo voglio fare entrare dolcemente. Dopodiché rilascio. Cosa ho combinato? Ho semplicemente miscelato le due tracce, le ho amalgamate e ho fatto entrare gradatamente l'altra traccia musicale. Vi voglio fare ascoltare questo passaggio. Intanto che sentirete la traccia musicale, io non parlerò perché per fare entrare anche la parte vocale, poi ve lo spiegherò quando faremo l'altra lezione. Per adesso godiamoci questo trasporto di due tracce unite. Abbiamo completato questo discorso, ne vedremo un altro. Diciamo che voglio inserire anche una clip che contiene al suo interno la sua bella traccia musicale. Vediamo qual è. Diciamo questa per esempio. Me la porto qui all'inizio. Eccola qui. La vogliamo sentire? Sentiamola un attimo, perché adesso come sta è sbagliato in quanto questa traccia musicale dovrebbe andare ad accavalare, andrebbe ad accavallare la traccia sotto. Sentiamo. Si sente la chitarra e si sente l'audio di... Quindi facciamo lo stesso servizio. CTRL per questo. Prima la trasportiamo più qua, fin dove inizia, perché inizia qua. E cosa faccio? Adesso se la andiamo a sentire, ad ascoltare, la noteremo pulita. Vediamo. Ok, è pulita. Però cosa abbiamo visto? Cosa abbiamo sentito? Questa traccia inizia dopo un po' di secondi e non sta bene, perché c'è un lasso di tempo vuoto. Non va bene. CTRL. Prendiamo la nostra traccia e la andiamo a posizionare qui. Entrerà gradatamente da qui a qui. Entra gradatamente per poi, a tutto volume, passare a essere ascoltata in tutta la sua ambiezza. Sentiamo. Perfetto. Cosa altro possiamo dire? Beh, ci sarebbe da dire. Però questa è una lezione, primi passi e potrebbe bastare, anche per non disorientare chi inizia, per non farli scappare dalle troppe nozioni che do. Vi voglio dire solo una cosa. Voglio chiedere scusa perché, siccome il mio tempo è ridotto e troppo poco, io faccio buona, sempre la prima registrazione. quindi a volte magari suono il telefono sbaglio, invece di dire destra, dico sinistra, oppure ma sbaglio i termini, le finali delle parole, tutto quanto. Io la lascio sempre buona. Per cui, scusatemi, l'importante è che riesco a comunicarvi quel poco che io so, perché non dimentichiamoci che non sono una professionista, non conosco l'inglese e quello che ho imparato è perché ho una, ci sono tre motivi per cui ho imparato. Ho imparato, il primo motivo è che amo Prusciò, il secondo motivo è perché amo Prusciò e il terzo motivo è perché amo Prusciò. Beh, si è capito, sono una fan incallita di Prusciò. Bene, grazie, se vi è piaciuta la lezioncina me la votate, iscrivetevi al mio canale e lasciate la spunta per essere avvisati da YouTube ai miei caricamenti e tenete d'occhio la casella postale che avete dato all'iscrizione di YouTube. Ora ci salutiamo per davvero. Grazie e arrivederci. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima.